Ma ci valutiamo, guardiamo tutto quanto Pezzo giusto troviamo, entusiasmo e canto Vendere e comprare, un'azienda da valutare Numeri da analizzare, il futuro immaginare Valutazione in MMA, oltre i dati andrà Ti daremo la verità, sempre il suo valore starà I lanci da rivedere, ogni costo va scemare Strategia da implementare, il profitto crescerà Valutiamo gli assetti, guardiamo le prospettive Mercato competitivo, analisi definitive Valutazione in MMA, oltre i dati andrà Ti daremo la verità, sempre il suo valore starà Bilanci da rivedere, ogni costo va scemare Strategia da implementare, il profitto crescerà Valutiamo gli assetti, guardiamo le prospettive Mercato competitivo, analisi definitive Valutazione in MMA, oltre i dati andrà Ti daremo la verità, sempre il suo valore starà Valutazione in MMA, oltre i dati andrà